Non mi fa leggere, sono le cose che tu devi dire a me, capito? Mentre abbiamo le cuffie. Non mi fa vedere che sei matto, se no che gusto c'è? Guarda che... Tanti fiori profumati fuori dalla mia finestra. Ci sono tanti fiori profumati fuori dalla mia finestra. Dai ma sente, 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 secondo me sente. Le aragoste hanno i denti... La rondine. Le aragoste hanno i denti nello stomaco. La? Le aragoste... L'ombra. No. Tra Torino e Latina ci sono più di 700 chilometri. Da Torino a Latina... Ci sono più di 700 chilometri. Da Torino a Latina ci sono... Più. Più di 600 chilometri. No. 700. Ho un ornitorinco domestico di nome Federico. Ho... Un. Una. Un. Un. Ornitorinco. Ritornello. No. Ho... Ho un... Orni. Orni. Lì. Orni. Federico. Fratello. Andiamo a posto, dai. Di la frase. Ho un ornitorinco domestico di nome Federico. Come Federico l'ultimo. No. Ho una gabbia piena di bellissimi pappagalli gialli. Ho una gabbia... Piena di bellissimi pappagalli gialli. Con dei bellissimi pappagalli. Gialli. Ho una gabbia piena di bellissimi pappagalli gialli. Sì. Ma se è forte, è forte. Ho un amico portiere che avrebbe voluto fare l'usciere. Ho un amico portiere. Poi prova. Che fa... L'usciere. Le uscite. Che? No, non la so, non la so, non mi riesco, non sento. Taglio l'aglio sul tagliere preparando il pranzo. Dai, dilla bene. Taglio l'aglio sul tagliere. Tarantolato sulla sedia. Ho visto ieri. Ho vinto, ho vinto. No, aspetta. Ho vinto. No. Ho visto, ho visto. Ieri sera. Ieri sera. Una rana. Una ragazza. Una rana. Una rana. Nera. Rina. Nera. Nera. E rara. In aria. E rara. Ma perché mi fa? Non può far così. Ma che gioco è? Di là, fa la... Eh, non urlare. Ho visto, ho visto ieri sera una rana nera e rara. Ho visto ieri sera una rana in un laghetto. Quanto fa 22 per 36? Quanto fa 22 per 36? Sì, ma questa... Sì. Il cane ha mangiato i miei compiti. Mangiato. Ok. In Italia. No. Il cane. Il cane. Ha mangiato. Ha mangiato. Il cane ha mangiato. I miei... Bene. Ha mangiato i miei... Compiti. Compiti. Bravo. 33 trentine. Entrarono a Trento tutte a 33 sotterellando. Beh, la so. 33 trentine. Entrarono a Trento tutte a 33 sotterellando. Ma me l'hai messa ora la musica, non a lui. Li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei... Qualcosa con kiwi. Bravo. Giusto? Li vuoi? Eh, li vuoi quei kiwi. E che fai? Li vuoi quei kiwi. Ciao ragazzi. Spero che vi siate divertiti e diteci chi volete nella prossima challenge. Un saluto. Perché più forti di Perin non lo so se li avrete grandi. Più forti. Ciao. 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 Ciao.